Ora 21 in punto, l'appuntamento è il numero 3 con velo la nostra rubrica, rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, ovviamente la Milano-Sanremo, la vittoria di Mattei Moric come piatto forte, ma in questo momento si sta accorrendo veramente tantissimo, oggi ad esempio c'è stato a Catalogna il successo di Joao Almeida nell'arrivo in salita di qualche giorno fa proprio a Catalogna, il problema occorso a Sonny Colbrelli, insomma sono tanti, c'è il Coppi e Bartali, sono tante le cose di cui parlare, lo faremo questa sera fino alle 22.45 sfidando dal punto di vista dello share persino la nazionale che si gioca il mondiale, non ci interessa assolutamente nulla, affrontiamo faccia a faccia anche gli azzurri di Roberto Mancini, vedremo chi avrà la meglio, lo faremo insieme a voi qualora lo vogliate al 392-623-7060, Whatsapp o SMS scegliete voi oppure commentando la nostra diretta social su Facebook, sulle pagine di TV6 e di Velo, ecco qua entrambe, grazie Maurizio, grazie a Maurizio da qui in regia che ringrazio subito come Captazio Benevolenzi e in vista del finale di questa puntata che probabilmente non sarà alle 22.45 e per puntata per cui dobbiamo ringraziare così come tutte le altre, così come le 35 di questa stagione, tutte le altre che abbiamo vissuto fino ad adesso, una e una sola persona, Luciano Robottini, ciao Luciano, buon giovedì! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti! E poi al tuo fianco con un maglione veramente velo, ritrovo con piacere Palmino Macciarelli, devo dire la colorazione è perfetta, devo dire e si attaglia perfettamente con la nostra grafica, se non dovesse piacervi la mia cravatta, prendetevela invece con Riccardo Magrini, ciao Riccardo! Buonasera a tutti, la cravatta ora è bella! Adesso va bene, risvegliamo questa cosa, l'abbiamo cambiata proprio in extremis, perché hai detto che quella che portavo prima non ti piaceva? Ma questo è più elegante, è più da conduttore, cioè quella prima era da, non so, da Sparviero, non lo so, comunque va bene così! Chiediamo un giudizio sulla cravatta, no! Anche, lo ritrovo con particolare piacere, un buon 2022 anche al direttore di Tutto Biciweb, Piero Augusto Staggi, buonasera direttore! Buonasera a voi, ciao! Buonasera! La scelta di Riccardo estetica piace? Al direttore? Dico sulla cravatta eh! La cravatta mi sembra buona, bella, sei elegantissimo, quindi cosa devo dire Iaga? Perfetto! No no, perché insomma quella di prima non gli piaceva, però sono disposto anche a farvi vedere quella che portavo prima e metterla ai voti, comunque va bene, non dilunghiamoci troppo perché l'anteprima finisce qua, piccolo break pubblicitario, tra poco ve l'ho numero 3! Grazie a tutti! 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 l'ha vinta Mattei Moric con un attacco in discesa, sulla discesa del Poggio che ha preso un po' tutti in contropiede, ovviamente sarà l'argomento con cui inizieremo questa puntata, ma ne stavate parlando anche durante la pubblicità, oggi c'è stato l'arrivo in salita a Tapparegina nel Catalogna con la vittoria di Joao Almeida e il nostro Giulio che ha pagato un po' d'azio. O parto con te Luciano e parto con una provocazione e prendila come provocazione, ma si vince adesso in discesa la Sanremo? Non adesso, sono due anni che Stoiven l'anno scorso e Moric quest'anno individuano dopo il Poggio il momento opportuno dove si può fare la differenza. Ricordo pure che Merckx diceva sempre che la Sanremo si poteva e si doveva anche vincere in discesa, a prescindere Merckx lo vinceva staccando tutti anche in pianura prima del Poggio. Comunque è storia del passato. Si vince, si vince. Ho visto una Sanremo non indimenticabile, se devo essere sincero, perché sì, ci sono stati momenti emozionanti, di alta tensione come vediamo in questo caso con Morici in discesa, però obiettivamente è stata una Sanremo abbastanza lineare, se la vogliamo definire così, con la classica fuga che ci si aspettava, con una cipressa che secondo me anche sulla cipressa non è che siano andati fortissimi, perché tra l'altro c'erano due fuggitivi, Samuele Rivi e Alessandro Tonelli che erano in fuga, la cipressa presa tutta dal gruppo hanno recuperato 40 secondi, quindi anche sulla cipressa non c'è stato quel grande agonismo che ci si aspettava. Anche se devo dire che poi in fondo alla cipressa erano rimasti 25 corridori, quindi c'è stata una corsa dove più che esaltarsi dagli attacchi si è visto che i corridori si staccavano. Poi c'è stato stoppoggio, stoppoggio che è stato aggredito secondo me da Pocaciar, anche se obiettivamente con 4-5 attacchi probabilmente anche fuori luogo. Io ho sentito molto la telecronaca di Riccardo che diceva qui alla Sanremo hai la possibilità di sparare un colpo, massimo ne puoi sparare due. Pocaciar ha attaccato 4-5 volte, quindi probabilmente ha attaccato anche nei momenti inadatti di questo splendido percorso. Poi c'è stata questa bellissima discesa di Moric, questa è stata una Sanremo che mi è ricordato molto, la Sanremo del 1984 quando vinse Moser, Palmiro tu te lo ricordi benissimo, eravamo rimasti 40-50 corridori e Moser dopo due curve fece questa discesa veramente formidabile. probabilmente aiutato pure da Chinetti che non volle ristiare più di tanto e Francesco poi prese quei 100-150 metri in fondo al poggio e riuscì a trionfare in quella Sanremo. quest'anno Moric secondo me ha fatto la stessa cosa, l'ha aggredita, il poggio, è stato fortunato che aveva sulla ruota quando ha attaccato, ci aveva Pocaciar che anche lui in quel momento non ha voluto esagerare a andar via ruota, ha preso appunto quei pochissimi secondi e poi chiudere è stato molto complicato perché erano rimasti 25 corridori e lì ci voleva appunto Riccardo, quei corridori che si diceva nelle trasmissioni precedenti, quei corridori di seconda fascia, corridori che erano capaci di stare vicino ai propri capitani e chiudere come era stato fatto nel passato, nelle vittorie, io mi ricordo nelle vittorie di Cipollini, di Petacchi, questi avevano corridori come Scirea, Trenti, Lombardi, Sacchi, ma li aveva in fondo al poggio, ciò significa che erano sì i corridori di seconda fascia, però sopra il poggio erano corridori che hanno scollinato il poggio in tredicesima, quattordicesima posizione per poi fare quel tipo di lavoro, invece quest'anno Moric ha fatto veramente un bell'attacco e sono felicissimo perché va a premiare anche una tattica della Bahrain che alla vigilia l'ha dovuta anche stravolgere perché l'assenza di Colbrelli probabilmente ha fatto sì che la tattica di questa squadra si rivoluzionasse tutta, quindi hanno puntato molto su questo uomo, hanno avuto in caruso perché poi io Riccardo vedo molto le tue telecroniche in diretta, però a volte si è impegnati con il lavoro, si è un po' distratto, però la sera quando rivedo le repliche delle vostre corse e soprattutto avendo anche il risultato sotto gli occhi, tu vedi come si sono mossi questi corridori. Il poggio Moric l'ha fatto in sesta, settima posizione, ottava posizione, a fianco con Caruso che l'ha coperto veramente in modo incomiabile, quindi quando tu la rivedi la corsa e sai il risultato vai ad apprezzare anche i movimenti dei corridori. Quindi alla fine è venuta sicuramente come sembra una grande Sanremo, un grande vincitore perché Moric non sarà il corridore, il grande campione, però uno che vince due mondiali nelle categorie inferiori, ha rischiato due anni fa di vincere una Liegi, è un grande atleta, ha meritato tutto, l'ha meritato per un'ottima, ci ha messo veramente tanta intelligenza, perché fare il poggio in quella maniera ciò significa che ha fatto dei grossi investimenti su questa discesa e l'ha fatto negli allenamenti. Lui vivendo a Monte Carlo ha avuto la possibilità di frequentare molto la zona di Sanremo, il poggio, la discesa, l'avrà fatto 20 volte questa discesa, quindi gli è venuto veramente un bellissimo capolavoro e sono veramente felice di aver assistito a una Sanremo che tutto sommato mi ha soddisfatto. Riccardo vengo da te perché ti è piaciuta questa cosa, cioè rivederla sapendo il risultato, cioè sfigato te, fortunati noi perché noi magari possiamo rivedere il tutto con un occhio un po' diverso. Ma io, sai, la Sanremo l'ho vissuta in diretta per 7 ore nel 40 e devo dire che dal lato spettacolare è stata spettacolare, io non sono tanto d'accordo sull'analisi che ha fatto Luciano sul discorso della cipressa che sono andati piano, perché se vai piano 25 non rimani, c'è stata selezione. È stata un'azione congegnata da parte degli UAE, ha fatto un grandissimo lavoro, come dici te, la seconda fascia, ma anche tanto seconda fascia, quando rimani là davanti non è, perché Formula ha fatto un corsone, secondo me, e sulla cipressa ha sgretolato il gruppo. Poi, mentre sono d'accordo con te sul discorso del colpo solo, cioè qui sulla cipressa si vede, cioè rimangono spiazzati anche tanti corridori. È vero che Tonelli e Rivi hanno tenuto, ma Tonelli e Rivi hanno avuto una grande fortuna a quella Sanremo lì, perché avevano il vento a favore e quindi se non ci fosse stato questo allungo di formula che vediamo prontamente registrato da Maurizio, e lo ringrazio, insomma non lo so se poi dopo fossero, poi sai, con i secco e i nemà non si fa la storia, però i due davanti hanno presi sul poggio, se non facciano quell'azione sulla cipressa non lo so, e qui vediamo Pogacar che ha fatto degli errori, ha giustamente sottolineato, tecnicamente ha sbagliato, c'è poco da fare, il direttore nelle sue paselle del dopo corsa è stato criticato per avergli dato 6,5, ma io sono d'accordo con Piero Augusto perché da Tadei ti aspetti sempre il massimo e quelle lì erano fetecchie, non erano scatti, lo scatto lo doveva fare nel punto dove è andato via Andersen e lì ha fatto una fatica terrificante per andargli dietro e in molti non so se l'hanno sottolineato, se l'hanno visto e qui si vede l'azione decisiva di Mattei Moric, e Vanderpool ragazzi ha fatto un corsone, perché Vanderpool era il 3 ottobre che non correva, a parte un'apparizione a un ciclocross, e ha chiuso quel buco lì tremendo, e anche lì con i seccoli, ma se non fosse stato lui a chiudere probabilmente Pogacar e Andersen sarebbero andati al traguardo, perché sapete benissimo sia Lorenzo che te e Luciano, di Sanremo ne abbiamo fatte diverse e sono attimi, e quando si dice un colpo solo, in generale il colpo solo vale sempre per le grandi classiche, perché non è che c'hai tante energie. Mattei è stato bravissimo a approfittarne perché lui, un discesista, l'aveva dimostrato, lui che aveva inventato quella posizione che sicuramente a te ti veniva il mal di gambe, come a me e anche a Lorenzo, in quella posizione di pedalata sul tubo orizzontale della bicicletta, se ve lo ricorderete, al campionato mondiale a Firenze, si è inventato una discesa neanche troppo forte, perché la discesa poi, quella che l'ha fatta più forte è stata Chiattoschi, per esempio, però ha vinto una grande corsa. A me la Sanremo sinceramente è piaciuta molto, per la spettacolarità che ha dato Pogacar nello sbagliare, perché quegli scatti lì, ragazzi, ne ha fatti uno, due, tre, poi dopo andava dietro a tutti, è stato bellissimo, televisivamente secondo me è stata una bellissima Sanremo, poi dietro sono arrivati otto corridori, cioè Van Aert che era quello più atteso, ha fatto ultimo del gruppetto, Van Der Poel ha fatto primo della volata, perché Turgi si era avvantaggiato nel finale e quindi per me è stata una bella Sanremo, ecco tutto questo, non sono d'accordo solo su quel fatto della Cipressa che sono andati in piano. Allora, ti svelo in retroscena, perché quando sei arrivato hai detto, ma secondo me sulla Cipressa sono andati in piano, io ho pensato già, mi sono proiettato alla diretta e sapevo che ci sarebbe stato prima o poi questo scontro, perché rapidamente, poi vado dal direttore, perché secondo te sono andati in piano? Perché secondo me sono andati, sono andati veloci, però non sono andati fortissimi, perché su Rivi e Tonelli che hanno preso, io ti parlo perché ho rivisto la corsa la sera e sono andato a cronometrare quando avessero recuperato il gruppo. Ma non è che, scusami, ma non te è venuto il dubbio che Rivi e Tonelli siano andati forti? Sì, Riccardo, ma stiamo parlando di Rivi e Tonelli, per carità di Dio, non voglio mettere… a me mi è sembrato che non fossero andati forti, poi si sono staccati i corridori e probabilmente… Vabbè, qualcuno è andato piano, Lucia, qualcuno… Ma che siano stati i fuggiti, i fuggiti dall'adietro? Riccardo, Riccardo, scusami un attimo, il gruppo principale hanno recuperato sulla cipressa 40 secondi sui fuggitivi, su 5 chilometri, quindi secondo me non sono andati fortissimi, poi se tu dici che sono andati forti, saranno andati forti i fuggitivi, ma dopo 270 chilometri i fuggitivi non potevano andare di più di quelli che sono andati. Luciano, scusami, perché queste discussioni con Luciano ne abbiamo fatte un miliardo, perché lui è capatosta… No, è come quando dici che la salita non è poi così dura… Esatto, è come quello che diceva, ma io a Luciano li voglio bene, lo sa, e quindi di queste discussioni ne abbiamo fatte miliardi, perché comunque lui sa le sue idee giustamente, io ho le mie, ma non è che possiamo fare una trasmissione che te dici «Ah bene, sì, anche io sono d'accordo», no, io non sono d'accordo per nulla, perché qualcuno è andato piano, quelli che si sono staccati sulla cipressa dal gruppo saranno andati a ripiano. Io credo che Tonelli e Rivi siano andati fortissimo, ma perché c'era la componente vento favorevole, dietro non potevano scattare a quella velocità lì, che scattavano, c'era ancora da fare diversi chilometri, se si parte dal presupposto che un colpo solo va sparato, sulla cipressa non doveva sparare nessuno e ha fatto un grande lavoro, secondo me, Formolo… Formolo sarà andato piano, che ti devo dire? Vabbè, 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 vabbè devi andare dal direttore con cui posso almeno condividere direttore il fatto che essendo noi tra tre ex professionisti, il fatto che a noi ci dicano che siano andati piano o forte, buah, per noi siamo andati forti sempre. Comunque, tornando dal one shot mancato di Tadej Pogacar, è un errore quello lì? Oppure la volontà di sorprendere? Oppure forse un po' di sicurezza? Cos'è? Allora, andiamo per… intanto partiamo da… sono andati forte, sono andati piano, io sono d'accordo in questo caso con Riccardo, c'è una media comunque che è 45 e 500 e qualcosa, la media record di Gianni Bugno, non ancora battuta, è 45 e 800, c'era il vento a favore, per me è stato un assareo velocissimo, quindi mi insegnate voi che siete stati professionisti, non certo io che lo sognavo e tale è rimasto il sogno, quando hai il vento a favore si va forte, ma è anche difficile poi andarsi a riprendere, perché vanno forte tutti. La Cipressa secondo me l'ha fatta forte, Formolo concordo che ha fatto un grandissimo lavoro e ha veramente ha acceso la corsa e da quel momento in poi non si può dire che la Sanremo di quest'anno sia stata una Sanremo che è durata 20 minuti, l'adrenalina del poggio no, è cominciato un po' prima, grazie a Formolo, alla UAE perché la Cipressa è stata fatta in un certo modo. Poi il discorso di Tadei Pogaccia, io mi sono espresso, sono stato come ha ricordato Riccardo non bastonato duramente, però giustamente è il bello delle pagelli, ognuno ha la sua opinione, ognuno vede la sua corsa, ognuno ha la sua sensibilità, il giudizio è stato lusinghiero, perché io comunque lo ringrazio Tadei Pogaccia, perché in ogni caso come ha detto giustamente Riccardo, nei suoi errori ha reso la corsa bellissima, perché comunque ha fatto 5 attacchi, attacchi, troppi, probabilmente se non 4, 3 di troppo, però ci ha deliziato, ci hanno deliziato Tadei, ci ha deliziato Morice, ci ha deliziato il buon Matthew Van der Poel, ci ha deluso Primoz Robic che ha fatto veramente lo scattino del morto e che non ha agevolato Vought Van Aert, anzi l'ha messo ulteriormente in difficoltà e poi alla fine è stato quello che ha deluso più di tutti, perché era uno dei grandi favoriti, è il capolavoro, devo dire, voi avete ricordato tutti, mi sbaglierò io, però avete ricordato Eddie Merz, avete ricordato Stuyven l'anno scorso, avete ricordato Francesco Moser, ragazzi, ma Morice, non è che bisogna andare dietro, Vincenzo Nibali ha vinto quasi alla stessa maniera, con il gruppo che l'ha braccato praticamente quasi sul traguardo e arriva, che ha veramente una fotografia che sembra un arrivo di gruppo, in realtà non è di gruppo, ma è un assuolo, un colpo di genio da parte di Vincenzo. A me se dovete dire cosa ti ha ricordato il colpo di Matteo Morici, io dico Vincenzo Nibali, con una differenza che quella di Morici è stata una Sanremo velocissima e quella di Vincenzo Nibali è stata invece una Sanremo lenta, tant'è vero che lui vince e lui dice, ma come ha fatto Vincenzo a vincere? È una delle Sanremo più lente, perché c'era il vento esattamente contrario, è durata, date a vedere, 7 ore e 20 minuti, 7 ore e 20 minuti, ed è riuscito a fare quello che ha fatto Vincenzo dopo oltre 7 ore di corsa, dove venivano fuori i corridori con delle caratteristiche particolari che sono quelle appunto di resistenza. In questo caso, dopo 300 km, 45 km all'ora e quindi una gara comunque di poco superiore ai 6 ore, è venuta fuori comunque con resistenza e velocità. Se mi è piaciuta, a me è piaciuta molto. Poi io confermo che Tadej Poga ci ha perso forse una grande occasione, che era quello di ragionare un po' di più, però si è lasciato andare all'istinto, che è il bello, perché se noi andiamo ad analizzare tutto, io dico sempre, nella storia del ciclismo, la Cunio Pinerola è una delle azioni più folli del ciclismo, che poi diventa l'impresa, ma le imprese generalmente vanno contro i canoni del direttore sportivo, del manuale del direttore sportivo, Riccardo l'ha fatto il direttore sportivo, Luciano sa perfettamente cosa vuol dire stare in ammiraglia. Coppi inventò quella cosa lì. Tadej Pogacar alle strade bianche è partito a 51 km dall'arrivo, è una follia, se lo riprendevano dopo 10 km, 15 o addirittura lo riprendevano a 3 km da Piazza del Campo, sarebbe stata una follia e sarebbe stato uno scellerato. Invece arrivati e siamo qua a raccontare che Tadej Pogacar era un corridore imprevedibile. Quindi io perché lo ringrazio? Perché dico benedetta questa generazione? Perché non ha paura di perdere e per loro vincono col sorriso sulle labbra e perdono con il sorriso sulle labbra. Quello che mi ha colpito, l'ho anche scritto Viva tutti, il primo voto che ho dato nelle pagelle, è stato proprio quello che mi è piaciuto tantissimo, al di là della retorica, ma perché l'hanno fatto naturalmente tutti, da Tadej Pogacar a Matteo Van Der Poel, Votto e Van Aert, hanno tagliato il traguardo, non hanno neanche preso la salvetta, sono andati a complimentare tutti con Matteo Moric perché ha fatto un piccolo grande capolavoro e sembrava quasi un incontro tra amici che hanno fatto un bel allenamento a tutta velocità, chi arriva prima il cartello ha vinto, ha vinto Moric e tutti ad applaudire Moric, è lo spirito bellissimo, uno spirito eccezionale. Quindi viva tutti, vive il ciclismo, in queste cose c'è l'altro che il secondo tempo del rugby, il secondo tempo del ciclismo va un pochino ricordato. Assolutamente sì, peraltro mi dai un assist involontario, tu non ne immaginavi minimamente perché hai citato la Sanremo di Nibali, questa è la sesta Sanremo per Alberto Volpi, tre da corridore, compagno di squadra di Bugno, Furlano e Colombo, tre da direttore sportivo con Petacchi, Nibali e Mattei Moric, perché lo dico perché è una cosa molto interessante, c'è anche il podcast di tutto Biciweb, BlaBlaBike, molto molto bello, poi direttore se vorrai 5 minuti magari sul perché il ciclismo ascoltato può avere un suo perché ce lo spieghi, però prima vado da Palmiro Masciarelli per riprendere le parole del direttore, è una generazione tanto vincente Palmiro quanto sembra spensierata, scansonata, con quella leggerezza che poche volte in questo sport abbiamo visto. Sì, d'accordissimo, il ciclismo attuale con questi corridori è più bello da vedere, è più entusiasmante, sono d'accordo con il direttore, io mi sono divertito molto a Sanremo, guardando la corsa, come diceva Luciano che sulla Cipresso sono andati di piano, secondo me sono andati forti il gruppo, però guardando i due davanti, io non li conosco tanto Enricchi, i due che erano in fuga, però ho visto, ho detto ma che bella pedalata mentre salivo, ho detto ma questi due vanno forti, hanno una bella pedalata, quindi Luciano per dire che dietro sono andati forti, ma sono andati forti anche quelli davanti, ho visto che proprio pedalavano bene, un peccolo più di pedale avevano, tant'è che mi sono meravigliato, la corsa è stata veramente bella, io avrei preferito se avesse vinto Van Der Poel, però devo dire che appena è partito Moritz ho detto vince, perché poi dietro erano rimasti tutti campioni ma tutti scuole diverse, e quindi se non noi chiudono subito vince, dopo 3-4 curve ho detto ha vinto. E soprattutto orfani di uomini gregari, tutti campioni, tutti sono d'accordo, perché ne avevo parlato la settimana scorsa e proprio te Luciano avevi introdotto l'argomento sul fatto che i corridori di seconda fascia, li avevi descritti così Luciano, in questo momento di fatto c'è una categoria che non c'è perché di fatto è quasi solo gregario dei super campioni e basta, c'è una fascia intermedia che manca di quelle che possono vincere, sei d'accordo? Ma no, Palmiro noi si faceva questa considerazione, in questo momento stiamo vivendo un ciclismo che ci sbalordisce perché ci sono veramente grandissimi talenti al vertice, molto più di una volta, sia nelle corse a tappe, sia a cronometro, sia in volata, ci sono una qualità di corridori ma molto più di una volta, però una volta c'era quella seconda fascia che erano corridori come te, come Riccardo, come il sottoscritto, come Ceruti, cioè corridori che eravamo lì però, capito? Vabbè, ero un gregario, facevo il lavoro che ha fatto Modulo, lo facevamo anche noi quello che vogliamo dire è che a questa Sanremo, tu eri lì sul gruppetto dei 25, capito? ero lì, se menavo come aveva nato Formulo, dopo non ci sarei stato neanche io, la seconda fascia, se lavorano prima giustamente poi non ci sei, c'erano di Sanremo, io per esempio a Sanremo mi auguravo sempre di trovare brutto tempo quando arrivavo a Genova perché se c'era una giornata come quella dell'altro ieri non era Sanremo per me, vengo a favore, tutti a ruota, invece quando venivo il vento dal mare, neanche contro, io preferivo dal mare oppure pioggia, che gli altri potessero sfruttare meno la scia, la ruota, io per le mie caratteristiche preferivo una Sanremo bagnata, vengo dal mare, di quelle dure, però facevo il mio lavoro e poi a un certo punto è normale che sparivo. Però quello che volevamo far capire un po' al pubblico, che per esempio le vittorie di Cipollini e di Petacchi sono state sopportate da corridori che erano in fondo al poggio col capitano, cioè i scirei, i trenti, i lombardi, cioè erano corridori che non erano campioni, erano corridori di seconda fascia, non erano campioni. Ma secondo me li ha fatti fuori formula sulla Cipressa i corridori di seconda fascia. Andate piano sulla Cipressa. Allora, 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 siccome mi devo fermare, faccio così, faccio così, mi interrompo, oh, siccome votano tutti contro di te, sei 3 a 1, facciamo una cosa, ti ho ragione io, facciamo 3 a 2, sono andati in piano, va bene? E andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. 25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike, rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH, abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclo computer, cardio-frequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Resta aggiornato su tutte le novità, Resta aggiornato su tutte le novità, Resta aggiornato su tutte le novità, Industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, grass, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a manoppello, via Vallone 16. Taccone Bikewear Clindex è a manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo, comunicazione importante, Riccardo durante la pubblicità ha rivisto bene tutta la Sanremo, tutte le 6-7 ore e conferma che sono andati piano. Perché adesso l'hai rivista bene, giusto? Lo confermo, guarda, ti dirò, la Cipressa hanno recuperato solo 40 secondi, al mio cronometro 42. Ma che velocezza l'hai visto, scusa Riccardo. Ho visto la Cipressa, ho visto la Cipressa, ho lasciato la Cipressa, l'ho cronometrata, però non sono d'accordo su Luciano che dice 42, no, 42 gliel'hanno recuperato. Quindi sono andati pianissimo. E da sotto la Cipressa, al Poggio, con i due corridori che erano in fuga e avevano 17 secondi due fuggitivi, a un chilometro dell'imbocco del Poggio avevano 17 secondi, Riccardo. Quindi con un meraviglioso... ha tirato... aiutami, chi ha tirato prima del Poggio? Cos'è? Torelli, Torelli, Torelli. C'era Torelli e Masciarelli, erano loro che tiravano. Sì, va bene. E c'era il ruolo. 17 secondi, ha tirato solo l'ex campione d'Italia, come si chiama? Tonelli. Formula. Formula. Ah, Formula. Ha tirato solo Formula, con 25 corridori a ruota, Formula, che è andato fortissimo, non ha recuperato niente. sui fuggitivi. Per forza erano da sole, davanti erano in due, con vento a favore e tiravano. Ho capito, va bene. Per me... cioè io ho visto un'altra Sanremo comunque. No, hai visto? Va bene. Io non so nella library cosa avete caricato, Riccardo, non so, ma... Io vorrei sapere se... ora qui si potrebbe... Avete visto la Sanremo allo stesso anno? No, forse ho visto quella dell'anno scorso io, forse. No, farei un sondaggio a questo punto con il pubblico, il nostro pubblico che è in visione, anche se giustamente hai detto Jacopo, stasera sfidiamo anche la nazionale, ma io... a me non me ne frega niente, perché sono qua, io non ho neanche acceso la televisione. Bravo, bravo. Quindi potremmo anche fare un sondaggine e dire chi ha ragione. Sicuramente danno tutti ragione a Luciano. Quindi è una corsa persa per me. No, no, vabbè, io per evidenti questioni sia di prossimità geografica e anche... E anche perché se no ti licenzia, quindi... Esatto, e io per me sono andati pianissimo, cioè io l'ho vista proprio al contrario, andavano indietro da Sanremo verso... Tornavano indietro verso Milano. Oh, vi faccio vedere una cosa, perché poi entriamo in un'altra questione. Ora voi vi dico canotto telescopico e tutti dite, vabbè, sì, sappiamo che cos'è. Quando io ho saputo... Eh, ma potrebbe aver avuto un aiuto dal canotto telescopico. Voi mettetevi anche nei panni di chi pensa che Morici a un certo punto stia per tirare fuori due remi. Però prima del canotto telescopico ci vediamo una moviola. Perché Riccardo, una volta ti sei spaventato, una volta ti sei un po' stizzito per quando hai visto Sagan che mandava all'area dal tuo pronostico, diciamocela tutta. Il loro non poteva essere perché Calibiuan ha dato forfè il giorno prima, quindi non potevano vincere mai. Quando hai visto Sagan che era dietro ti sei un po' incupito e poi però ti sei spaventato quando Morici ha iniziato la discesa. E vediamo un attimo perché. E proviamo a far capire. Cioè, Morici in questo momento l'abbiamo proprio... Ecco, l'abbiamo isolato. Poi abbiamo fatto proprio una moviola. Perché, ecco qua, fa anche un numero pazzesco che non so quanto sia razionale e quanto follia istintiva ad un certo punto. Perché lui in questo momento quando la bicicletta parte sulla sinistra è a testa in giù e quando la riprende la bicicletta sta andando contro il muro. Ma ha fatto bene qua, Jacopo, chiedo conferma anche a Luciano e a Lorenzo. Qui ha fatto bene perché se avesse deviato sull'asfalto sarebbe andato nella canaletta e sarebbe caduto. Invece ha lasciato andare la bicicletta dove andava, qui si distrae un attimo e poi salta su. Questa è abilità, è grande frettezza. E' un numero che su 100 corridori forse un po' Sacano sarebbe riuscito a fare la stessa cosa. Gli altri sarebbero caduti, secondo me. Qui ha fatto una grande cosa, cioè un'abilità, una fretta, anche una capacità di gestire il mezzo perché non è facile qua. Quindi lui lascia andare la bicicletta nella canaletta e poi la tira su senza problemi. La curva che ha sbagliato dopo, perché quella l'ha sbagliata, l'aveva affrontata quasi in fondo al poggio, non so se Maurizio quell'immagine ce l'ha. No, abbiamo il quasi salto di catena. Ecco, su questa cosa voglio fare una domanda, visto che sia Luciano che Palmiro di meccanica è di questi nuovi gruppi elettronici. Voglio fare una domanda. Troppo spesso ho visto che ci sono questi salti di catena. Qualcuno mi ha detto che dipende dal fatto che le 12 velocità hanno una catena più piccola, più stretta e con il cambio, il deragliatore che si va a sistemare gradualmente secondo come si sposta la catena nel pacco Pignoni dietro, a volte si sfasa e butta fuori troppo il deragliatore. La domanda è, è vero questo che mi hanno raccontato o invece è casuale? A Luciano e a Lorenzo naturalmente. Penso che sia casuale perché anche prima succede che ogni tanto c'è un salto di catena. Io non ho visto neanche bene come è successo. Posso aggiungere io che nei cambi meccanici se c'è un errore di regolazione meccanica tu devi farlo meccanicamente, ma questi cambi elettronici il meccanico non deve intervenire sul cambio o sul deragliatore, intervengono direttamente dalle manopole della centralina, quindi è la centralina che automaticamente fa la registrazione e quindi secondo me non sbaglia mai la centralina, quindi o i meccanici probabilmente non sanno regolare bene le centraline. Vabbè ma ha fatto tutta la gara, è successo in curva, quella velocità. Poi può succedere di tutto. E' un salto di pedalare come è ripartita la pedalata in curva, la catena magari ha un salto di catena, una buca, l'asfalto è un po' ondulato, salta la catena e ci sta una cosa del genere. In curva poi è successo. Perché oggi Riccardo le regolazioni del cambio, una volta si chiamava l'ammiraglia, arrivava il meccanico, il giravite, ti regolava, invece adesso il corridore lo può fare lui direttamente dalla bicicletta senza l'intervento dell'ammiraglia, perché se sanno utilizzare le manopole e i pulsanti che sono sul terminale della curva manubrio, sulla leva, automaticamente queste regolazioni oggi possono direttamente farlo il corridore stesso e la regolazione è perfetta, perché la centralina è un meccanismo talmente perfetto che non sbaglia mai la regolazione. Intanto ci stanno scrivendo, prima ci hanno scritto dove saranno protagonisti gli italiani alle prossime classi, che poi lo chiediamo a Riccardo. Nicola ci ha scritto, beh se Formula è il migliore degli italiani, insomma tutto qua. Poi sul sondaggio che ha proposto Riccardo hanno scritto che te vinci comodamente, Luciano, sul fatto che siano andati forti o piano, hanno detto vinci del sicuro se chiedono al pubblico a casa. Questa è un'altra domanda, buonasera a tutti, Moric ha usato, come ha detto lui, all'arrivo ha usato la sella dropper, di solito usata nelle mountain bike, può essere stata utile dalla vittoria di Moric, grazie Alessandro, poi vedremo anche un video che ci ha preparato il nostro moreno di W su questo e il messaggio perfetto della serata, l'abbiamo letto prima, siccome si arrivava a Sanremo, siccome il festival è terminato da poco, sono andati pianoforte, quindi così mettiamo d'accordo un po' tutti quanti. Ho peraltro, direttore, una vittoria questa della Barem Vittorius con Moric che fa particolarmente piacere perché innanzitutto conferma che praticamente la Slovenia è una specie di Belgio-Olanda 4.0, è una specie di resto del mondo, sai quando si fa Italia contro il resto del mondo, tutti i più forti vanno lì, adesso sembrano tutti nati di Slovenia, ma soprattutto perché sulle nostre strade Moric, vediamo le immagini del giro dell'anno scorso, rischiò tantissimo e quando ho visto quel numero che ha fatto prima ho detto no, non ci credo, ancora Moric. Moric, questo è un ragazzo che lo ricordiamo è stato campione del mondo, Juniors, Under-23, quindi quando si parla di Moric è uno che a livello di sopra gli manca davvero poco, non corraggimi se sbaglio, per stare al piano di sopra, dove sono quelli dell'Olimpo, o sbaglio? Moric è all'estima del campione, non lo è ancora diventato, si sta avviando, il tassello Sanremo è un mattone importante, intanto si porta a casa da un monumento che è lì, che risplende insieme a altre cose, lui quando è passato professionista colpì tutti, da Ivan Basso al dottor Roberto Corsetti, era la Liquigas, giovanissimo, imparò l'italiano in 20 giorni, sa parlare perfettamente 5 o 6 lingue, un ragazzo di un'intelligenza e di una vivacità eccezionale e il motore lo vediamo. Probabilmente questa sua vivacità, questa sua spregiudicatezza, noi diciamo è stato bravo, è stato cattivo, diciamo che lui osa e forza, è arrivato al limite anche alla Sanremo, è andata bene, perché il volo che fa il Giro di Italia esattamente un anno fa è da rimanere senza fiato, perché fa un errore clamoroso, forza anche in quell'occasione lì, fa un volo pazzesco che Cara Grazia indossava il casco e l'è andata in ogni caso bene, perché nonostante il casco di ti potevi veramente spezzare l'osso del colo, invece ha spezzato la forcella anteriore della sua merida, però è un corridore che ha gambe, perché gambe, motore, cuore c'è, poi noi vogliamo dire che lui è stato anche lì molto intelligente, ha curato tutti i particolari, hai ricordato giustamente che vive a Monte Carlo ed è andato a provare più e più volte il finale della Sanremo, non ha mancato di far notare che lui usava appunto, come ha ricordato l'amico che ci sta seguendo da casa, il dropper tessit post, che è questo reggisella telescopico che viene usato regolarmente nei fuoristrada, nella mountain bike e per la prima volta è stato usato da un corridore di livello in una classica monumento, quindi è storica, storica, diciamo che Moritz ha inventato il supertruck che la sua posizione l'ha, superman, sdraiato, quello che diceva Riccardo ai mondiali di Firenze, che poi è stata bandita e vietata dall'USI e adesso ha introdotto nel mondo strada il dropper sit post, è un corridore che ci sa fare, ci sa fare in bicicletta, giù dalla bicicletta, a questo punto cosa liquidiamo? Continuità, perché ha tutto, ha veramente tutto, ma deve, ecco lì, visto che prima si parlava, Luciano parlava di centralina, lo deve regolare, anche lui va, deve regolare la centralina e lì la chiave, perché se lui regola la centralina e riesce a trovare equilibrio e continuità, la Slovenia si ritrova non di tanto in tanto un Moritz che ti fa il numero, perché ricordiamo ha vinto una tappa al giro, una tappa alla vuelta, due tappe al tour, più un paio di mondiali, più ha rischiato di vincerla a Liegi, però può diventare veramente un corridore che ti trovi, che lo trovi costantemente negli ordini d'arrivo di tutte le grandi classiche, perché lui può potenzialmente correrle tutte, può veramente correre tutte, perché ha le doti naturali per poter primeggiare anche volendo in una paricertura, perché ha la guidabilità del mezzo, ha il fisico per una gara anche come quella, ha il fisico per lottare per vincere un Fiandre, forse un Lombardia un po' dura, però un uomo che riesce a arrivare alla Liegi rimanca poco, quindi diciamo che è un corridore completo, la Slovenia non è messa male. No, diciamo che c'è chi è messo molto molto peggio, Luciano. Sì, al direttore, analizzavo pure quando sono stati fortunati poi quelli della Bahrain a non avere alla partenza un Colbrelli, perché questo? Perché questo avrebbe condizionato molto la gara sia di Moric che complessivamente di tutta la squadra, perché avere Colbrelli alla partenza, ciò significava correre in una maniera diversa probabilmente, perché l'interesse di portare Colbrelli in volata sarebbe stato maggiore che proporre in attacco Moric. A volte vedi le sfortune ti porta poi a cambiare anche i momenti tattici della corsa? Guarda, non abbiamo la controprova, credo che però avrebbero corso lo stesso modo, Moric non avrebbe cambiato il modo di corsa. Il Bahrain ne ha piazzato anche tanti, se non mi ricordo male, nono o decimo. Colbrelli avrebbe fatto un poggio come l'ha fatto Giacomo Nizzolo, che è passato per decimo al Gran Premio. Quindi il suo obiettivo sarebbe stato quello di rimanere lì attaccato al treno dei migliori, Moric avrebbe tentato in discesa in ogni caso. Se fosse andato male, c'era l'alternativa a San Nicolbrelli, che erano poi, credo, quello che avevano in testa i Jumbo. Roglic, perché noi pensiamo che Roglic ha tentato l'attacco per Van Ute Van Arca, secondo me Roglic ha tentato l'attacco per Roglic, ha provato per portare via un gruppettino, per portare via Tadej Pogacar e vedere Wout Van Arca avrebbe risposto di conseguenza. Il problema è che Roglic non ha fatto solletico, perché non ha superato un atleta che è uno, è rimbalzato, è tornato indietro lui da solo chiedendo scusa e quindi poi Wout Van Arca si è trovato da solo a sbrigare la questione. Quindi diciamo che colbrelli Morice, secondo me, io la vedo come, era una cartuccia in più per il Barenche, comunque ha corso molto molto bene. Poi il nostro Sonny, il nostro Sonny, ne parleremo direttore più tardi, passando un momento un pochino più difficile. Assolutamente, visto che abbiamo introdotto la questione canotto telescopico, prima ci vediamo la bici in 200 secondi di Moreno di Labio Palmino, così io almeno, voi lo sapete, io capisco meglio che cos'è e poi ne parliamo. La bici in 200 secondi. A quanto pare il successo di Morice alla Milano Sanremo è dovuto in parte al suo coraggio e a una certa dose di fortuna, ma anche alla decisione di utilizzare il canotto telescopico sulla sua bici Merida. Questo gli ha consentito di avere un vantaggio in discesa che ha fatto la differenza nel rettilineo finale. Il canotto telescopico è molto utilizzato nel fuoristrada, dove è necessario variare molto la posizione del corpo, soprattutto nei tratti di discesa più ripida e soprattutto anche nei salvi. Che cos'è? È quel dispositivo che consente di abbassare la sella attraverso un servo a comando. Come si può vedere, consente di arretrare e di abbassarsi durante i tratti di discesa più ripida. Ma è utile anche sulla bici da strada, perché consente di abbassare il paricentro, che normalmente è localizzato poco sopra la sella. Quando invece abbassiamo la sella, possiamo trasferire il peso del nostro corpo maggiormente sul manubrio e sui pedali. Questo consente innanzitutto di abbassare il paricentro, ma soprattutto di avere una maggiore sensibilità nella guida. Infatti la parte pelvica è meno sensibile rispetto al palmo delle mani e alla pianta del piede, sulla pressione che il nostro peso esercita. In questo modo riusciamo comunque ad avvantaggiarci rispetto a chi è disteso sulla sella, perché abbassando di qualche centimetro la posizione del bacino, riusciamo ad avere la schiena piatta, quindi siamo più aerodinamici e ad avere maggiore capacità di trasmettere il peso sulle ruote, sulla parte bassa della bicicletta. In questo modo riusciamo ad aumentare il grip ed essere più aerodinamici. come i freni a disco che sono stati mutuati dal fuoristrada verso il mondo strada, probabilmente anche il canotto telescopico in alcune competizioni, in alcune gare, riuscirà a portare quel piccolo vantaggio che può fare la differenza, come è accaduto nella Milano Sardegna. insomma Palmiro abbiamo cercato di, io soprattutto, di capirne un po' di più, ha ragione Moreno quando dice, dopo il freno a disco, adesso il canotto telescopico, è chiaro che ci vuole anche chi ci sa andare con la bicicletta, a me neanche se mi dai un canotto lanciato proprio sull'acqua, vado da nessuna parte. A me è successo 5-6 anni fa, una gran fondo, mi si è rotto il collarino della sella, si è abbassata tutta la sella, erano sul ceppo, si scendeva giù al passo delle capannelle e devo dire che la bicicletta, ma era proprio una questione di guida, la bicicletta sembrava che diventasse una moto, riuscivo a piegarla molto di più, ho fatto la discesa in maniera pazzesca, solo poi sono arrivato in buona discesa, mi sono dovuto fermare perché non mi riuscivo a pedalare. In discesa la bicicletta si riesce a guidare molto meglio, in curva, in curva hai tutta un'altra sensibilità, riesci proprio a piegarla bene, ha più stabilità. Oh, quando hai detto la sella mi si è, ho pensato subito alla scena di Fantozzi, ma no, no, lì si tratta solo di abbastanza di Fantozzi, facciamo una cosa, Maurizio mandi quell'sms perché lo voglio attraverso l'sms, arriviamo ad un altro argomento, poi parliamo anche del Catalogna, parliamo di Colbrello e quant'altro, ci chiedono direttore se tutto biciweb va in edicola, ovviamente no, allora andava in edicola tutto bici, ma tutto biciweb no, perché è un sito, quindi non vai in edicola, basta andare con un computer cellulare, fate tutto biciweb.it e lo trovate, esatto, però mi introduce ad un argomento Luciano che te volevi trattare perché ti sei portato, perché a te non ti scappa niente, figurati se ti scappa i distacchi prima e sotto la cipressa e dopo il poggio, cioè Riccardo sta contestando qualcosa che non si può contestare. Riccardo, Riccardo, ti vedo malissimo stasera, ti vedo malissimo, ma non per questione politica. Mi hai preso caldo, mi sono spogliato, ho cominciato sto sudando. No direttore, io vi volevo mettere un po' all'attenzione, per chi è grande appassionato di questo sport, siamo arrivati alla vigilia di questo fine settimana, che ero veramente interessato ad andare in edicola la mattina, perché mi prendo la gazzetta dello sport, ed ero veramente interessato di vedere in prima pagina il mio sport preferito. Invece? Guardiamo che cosa c'è nella gazzetta di sabato. Rudiger si signora. Il ciclismo non esiste. Volatona Scudetto, in alto sotto la testata, Gran Gala Sanremo. Questa era quella di sabato. Questa era quella di sabato. Poi quella di domenica, il risultato? Lampo Scudetto, mi vuoi del male proprio te, eh? Fulmini mondiali, Jacobser è anche sui 60, ovviamente la Pietro Ferrari. Possibile che il nostro sport su un quotidiano che organizza il Giro d'Italia, organizza Lombardia, organizza la Sanremo, non dia spazio al nostro sport di riferimento, direttore. Come è mai possibile che una testata giornalistica di riferimento a questo sport, alla vigilia di una Milano Sanremo, non dia spazio in prima pagina al ciclismo? La tua domanda è la domanda di tantissimi appassionati. Non hai idea di quante non lettere e mail che riceviamo all'indomani di grandi gare. È il lamento che hanno quasi tutti gli appassionati di ciclismo italiani, perché gli appassionati in Belgio, Olanda e Francia, anzi la Francia, io vorrei dirti per mettere una briscola su quanto tu hai detto, vigilia del Giro di Lombardia, no vigilia, giorno del Lombardia, sabato mattina l'Equipe esce con una pagina intera, la pagina d'apertura con la classica delle foglie morte, con Alain Filippo, se non mi ricordo male, Roglic e Tadej Pogac. Cioè questi tre volti che erano i tre protagonisti della classica delle foglie morte. L'Equipe aprì sabato mattina in quel modo e è inutile che vi dica com'era la prima pagina della Gazzetta quel sabato mattina. C'è resa un franco bollo come per la mia passata. Però le pongo questo sub interrogativo, lei ha nominato la prima pagina dell'Equipe e ovviamente c'è Giuliana Lafilippe, non è anche possibile che qui da noi in Italia anche l'assenza di un Valentino Rossi del ciclismo, di una Federica Pellegrini del ciclismo. Faccia in modo che le prime pagine… No, è una considerazione. Il fatto che non ci sia un grande nome italiano ti richiamo. Allora, è vero che magari poi dobbiamo capirci, magari ci manca il grande corridore del corso a tappe, l'ha messo in prima pagina Vincenzo, gli hanno dedicato anche una gazzetta gialla, però per dire Filippo Ganna non è stato celebrato come potrebbe essere celebrato altrove. È così. Bisogna fare questa domanda veramente non tanto a me, a Riccardo, a Stefano Barigelli che è il direttore della Gazzetta dello Sport, ma soprattutto all'editore. C'è editore italiano che è Urbano Cairo, che come ha ricordato giustamente Luciano vive, ha un core business. Io trovo che in proporzione, facendo le proporzioni, il Corriere dello Sport Stadio è tutto sport. Parlo con conoscenza, perché io tutte le mattine mi leggo sette giornali e tutti i tre sportivi, quindi leggo tutte e tre. Quindi Giorgio Coluccia e Andrea Schiavone di Tutto Sport e Coluccia del Corriere dello Sport Stadio scrivono di ciclismo anche discretamente e scrivono nonostante probabilmente a livello di zone geografiche sicuramente da Roma in giù è un pochino più difficile incontrare appassionati di ciclismo. In Piemonte probabilmente ce n'è qualcuno di più, ma in ogni caso investono pagine per il ciclismo. La Gazzetta ne avrebbe mille ragioni perché non organizza solo il Giro d'Italia, organizza le strade bianche che è una gara bellissima, che i corridori sempre sull'Equipe, un'inchiesta dell'Equipe avrebbe dovuto farlo alla Gazzetta. No, l'ha fatta l'Equipe, l'hanno eletta Sesto Monumento, Tirreno Adriatico, Milano Sanremo, Giro di Lombardia, Giro Lombardia, eppure fai fatica. In realtà ho capito che va bene fatturare, però bisogna anche investire. Però ribadisco, io devo pensare a far quadrare i conti della mia piccola realtà editoriale. Certo che da appassionato di ciclismo, come voi, ho il diritto di lamentarmi, anche perché io pago l'abbonamento della Gazzetta, quindi io sono assolutamente sereno. Pago i miei 180 euro all'anno e quindi almeno il diritto di lamentare la penso di averlo per diritto. Se posso Jacopo, su questo tema noi... Oh, peraltro stavo dicendo, stavo venendo da te perché, prima di far parlare Luciano, perché a Luciano volevo dire, beh, qual è il problema? Oggi Eurosport ha presentato il Palinsesso 2022, parli di ciclismo, parli di Eurosport, così è iniziato l'articolo Tutto Bici Web, ti è piaciuta con me? No, ma effettivamente... No, no, ma sono 600 gare, vabbè, ma lasciamo stare il discorso che volevo fare io e non altro su GPO. Io mi ricordo, GPO è Giampaolo Ormezzano, che è un editorialista anche di Tutto Bici Web. Dal primo numero. Dal primo numero. Giampaolo Ormezzano lo conosciamo benissimo, sia Luciano che Palmiro, perché sono stati soggetti che sono stati intervistati anche da una delle ultime firme rimaste, perché una volta che ci ha lasciato Gianni Mura, Mario Fossati, insomma che Dio ce lo benedica ancora per lungo tempo, perché non è rincoglionito fra le altre cose voglio dire, avendo... Ha solo un difetto, scusa Riccardo se mi permetto, ha solo un difetto che purtroppo tu non... però le becco io, io ho un tifoso granata, io essendo bianco e nero non è idea del lunedì mattina, quello che non mi dice. Beh, una volta a me disse mi meraviglio di te Magrini, che sei una persona intelligente, che tifi Juventus cioè tanto per essere... Non posso dire quanto aveva ragione? No, ma sì, ma lasciamo stare... No, grazie Jacopo, grazie. Eh sì, direttore, mi dispiace ma su questo non possiamo essere mai d'accordo. Non parliamo di calcio, per favore, perché il GPO, io volevo dire che un giorno fece un'intervazione, quindi io ti parlo di quando correvamo ancora noi, quelli del ciclismo moderno, noi avevamo detto qualche puntata fa, lui disse il ciclismo è nella condizione che per avere la notizia dovrebbe essere Maradona che investe un corridore e che gli fa male e lo manda all'ospedale, a quel punto lì avrebbe sicuramente la prima pagina dei giornali, questo avveniva tanti anni fa, più di 40 anni fa, quindi il problema è un problema che va indietro ancora nel tempo, certo è, a conferma, l'altro giorno prima pagina succede quello che è successo al povero Sonni, prima pagina c'era un quadrato in centro pagina con la fotografia di Sonni Corbrelli che si era sentito male, ma porca miseria! Che non si era meritato a ottobre così di bennessa, bravo, per l'appareggio bene. Certo, ma ti rendi conto a che livello siamo? Cioè noi... Piccolo particolare, nei bar che capita di rado, ma noi lo percepiamo, perché chi ci conosce e dico Luciano, Palmiro, Jacopo, te, io, ognuno di noi sa che ci occupiamo di biciclette, quando succede qualcosa anche chi generalmente ci ignora ci chiede del piccolo, ok? E quello lì, ecco, dopo la Roubaix, io non dico che ero fermato per stare, che esagero, però tantissimi dalla Portinaia che mi dicevano, ma ho visto quel ragazzo, eh? Bene, l'unico che non si era accorto era la Gazzetta Rosso. Benissimo. Poi tra l'altro per finire su questa polemica della Gazzetta, direttore, io sono sempre stato un po' polemico con la Gazzetta, perché? Perché a prescindere gli investimenti che non fa verso il nostro sport, ma soprattutto quando lucra su questo sport, questa testata giornalistica, perché? Si incassa i milioni di Euro della Rai. Con le tappe del Giro d'Italia e Palmiro ne ha conoscenza molto bene nella nostra regione, ogni anno si viene a prendere i 500, i 700, il milione di Euro di soldi pubblici, quindi la Gazzetta regione per regione prende soldi pubblici, prende i soldi dalla Rai e poi alla fine queste sono le risposte al nostro sport, capito? Perché io sono polemico? Perché a volte dico sempre anche alla classe politica locale che fa questi grandi investimenti sul Giro d'Italia, ok va bene, molto il Giro ci dà delle grandi risposte a livello di comunicazione sui territori e tutto, però a volte noi dobbiamo salvaguardare anche lo sport regionale, specialmente quello di base. Io e Palmiro, forse molto più di me, abbiamo fatto investimento appena abbiamo smesso di correre in bicicletta con le squadre, abbiamo sponsorizzato le manifestazioni, però noi non abbiamo mai ricevuto sponsorizzazioni pubbliche dalla regione, perché quando andavi dalla regione, dalla provincia, dal comune, correggimi se sbaglio Palmiro, noi non abbiamo mai ricevuto niente, arriva la Gazzetta, si apre, cancelli, portoni e si danno via tutti questi soldi. La Gazzetta almeno ci riconoscesse, dicesse guarda noi incassiamo con i diritti Rai, incassiamo sui territori, vi diamo un milione di Euro alla Federazione Ciclistica Italiana, così portate avanti la base, non c'è nemmeno questo. Luciano, hai detto la parola magica, però dopo la Federazione Ciclistica è chiaro che forse è anche naturale, la Gazzetta fa le sue cose, cerca di farle al meglio, promuove se stessa, promuove comunque il ciclismo, però ci dovrebbe essere una federazione che va e bussa e dice scusa, guarda che comunque le corse che tu organizzi è sotto l'egida della FederCiclismo, guarda che comunque il calendario lo presentiamo noi, perché formalmente se la Federazione Ciclistica decidesse perché Cordiano D'Agnoni diventa il cervello, decide di non inserire la corsa nel calendario, è vero che viene fuori il pandemonio, però se non la presenta l'USI, non viene approvata, tu la corsa non la organizzi. Quindi bisogna anche, ci vuole che la politica vada anche a far capire certe cose, quello che dici tu giustamente merita un'attenzione politica, è chiaro che se nessuno va a disturbare il manovratore, il manovratore pensa a percorrere la propria strada, in questo caso la Gazzetta, fa le cose al meglio, cercando di farle al meglio, però la Federazione avrebbe tutti i diritti di andare a dire anche, guarda che c'è anche il ciclismo di base, guarda che c'è anche i campionati per dire, organizzami un anno il meeting giovanissimi, organizzami un campionato italiano donne esordienti, dammi un piccolo contributo per fare un cheer, avevano creato una cosa carina che era la Coppa Italia con prima, prima, seconda e terza che si guadagnava la wild card, anche quello ha perso perché in realtà conviene non avere la wild card per un merito sportivo e lì mi fermo, e lì mi fermo. E per concludere, direttore, leggevo Moric mette la Slovenia in bici, tutti questi grandi atleti, specialmente poi quando si va a smettere di correre, tutti siamo un po' riconoscenti verso questo sport che ci ha dato tanto e tutto. E bene o male tutti quanti abbiamo portato grandi progetti, specialmente, ma io devo veramente fare i complimenti a Palmiro perché Palmiro è stato il trascinatore del ciclismo regionale degli ultimi 25 anni, 30 anni. Io ho investito anche io 14-15 anni con situazioni interessanti di ragazzi esordienti, allievi, juniores. Però alla fine, dopo tutti questi investimenti, noi siamo delusi perché poi alla fine nessuno ti riconosce niente, nessuno ti dice bravo, nessuno… cioè alla fine veramente siamo delusi da comportamenti, anche da classi dirigenti che guidano questo sport, di riconoscere che certi personaggi devono essere sollecitati, premiati. Tu Palmiro, da quando hai smesso, hai aperto la tua attività commerciale, ma quando hai investito sul territorio, sul ciclismo, a prescindere poi se è arrivato anche al vertice con la tua Acqua e Sapone? Io appena, l'anno dopo che ho smesso, avevo la squadra di juniores, ho tenuto i ragazzi dentro casa mia, anche sei ragazzi, in ritiro, proprio dentro casa. Diciamo che fino a qualche anno fa, fino al 2012, quando la Gazzetta mi ha fatto lo sgampetto di non far partecipare l'Acqua e Sapone al Giro d'Italia. Avevo detto dal Presidente della Federazione Ciristi che io sponsorizzavo 27 squadre tra giovanissime direttanti in Italia, 27, con l'Acqua e Sapone, Caffè Mocampio e quant'altro. Il 2012 il Corpo di Grazia ha dato il signor Mauro Vegni, perché non siamo stati invitati al Giro d'Italia, io ho fatto il ricorso al Consiglio di Stato e l'avremmo avendo sicuro il ricorso, perché loro avevano dichiarato, avevano scritto sulla Gazzetta i requisiti per fare il Giro d'Italia. L'Acqua e Sapone avevano tutti i requisiti e delle quattro squadre invitati sicuramente avevano più titoli di tutti quanti gli altri, sia come atleti, sia come Storia, che con i Garzelli e quant'altro. La storia dell'Acqua e Sapone, delle cipolline, del Giro d'Italia e quant'altro, facendo questa graduatoria che loro chiedevano sulla Gazzetta, dovevano essere la prima squadra a presentarci. Un giorno mi chiama Mauro e mi dice allora Palmiro Tranquilli, partite poi al Giro, gli chiedo al posto di chi? Dei tedeschi, perché c'è la squadra invitata tedesca? Mauro, testuale parola, dice no a posto della Saxo Bank. Gli dico come fate a non far partire la Saxo Bank che è Pro Tour? Perché della Saxo Bank senza Contador, che quell'anno era squalificato, non me ne frega un cazzo. A quel punto siamo invitati, non ho firmato il ricorso al Consiglio di Stato e poi non siamo partiti. Penso che sia andata in straniera diversa. Questo mi è costato, ma lo metto per iscritto con tutti i documenti, 1.800.000 euro di tasca mia ci ho rimesso. Mi sono ricomprato la casa, il negozio, per tutti gli investimenti che avevo fatto. Per il signor Mauro Pegni. Lo dico pubblicamente perché tanto la verità non ha cambiato neanche una virgola. Vabbè, noi ovviamente siamo sicuri della tua ricostruzione, però io siamo altrettanto sicuri del fatto che io mi devo fermare, perché sono 12 minuti fuori. Ci fermiamo per l'ultima volta, poi rientriamo per l'ultima parte. 25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike, rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH, abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclo computer, cardio frequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Grazie a tutti. 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 complimenti soprattutto a Lisa Bazzano che è anche campionessa del mondo in carica Riccardo andiamo in Catalonia oggi avete commentato la tappa regina te e Luca Gregorio vittoria, manca a dirlo della UAE di Joao Almeida in un finale in cui probabilmente sull'ultima salita ci aspettavamo forse un Giulio anche voi eh devo dire vi ho seguito in telecronaca ci aspettavamo un Giulio più vicino più a ridosso dei primi magari potesse andarsi a giocare la vittoria non è stato così ha pagato parecchio vittoria di Almeida in un finale in cui i colombiani come di consueto se ne un po' danno di santa ragione viene e vince il portoghese che proverbialmente non paga però vince ma Almeida è andato molto forte oggi io pensavo che facessero la corsa per Aiuso visto che Aiuso spagnolo Catalano ieri era arrivato secondo battendo Nairo Quintana su una salita meno impegnativa di quella di oggi qua vediamo il gruppetto finale erano rimasti in quattro molto bene anche Carapaz Ighita e Nairo Quintana due colombiani che si marcano stretti e poi Almeida dopo aver lavorato anche precedentemente li ha sistemati per le feste in volare è andato molto forte e sinceramente mi ha colpito anche non me l'aspettavo ecco da Almeida non mi aspettavo una prestazione del genere perché è stata molto bella ora qui non si può dire secondo me sono andati molto piano sulla salita è stato lo volevo quasi dire lo volevo quasi dire nonostante la salita fosse pedalabilissima no ma è una salita molto dura però sono andati piano tant'è che vedi i corridori che si staccano ma lo facevano apposta lo facevano apposta Riccardo Almeida sarà l'uomo UAE al giro? sì 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 Almeida se va così al giro è uno dei pretendenti fattibili perché comunque ha esperienza è uno che ha già si è già piazzato però forte così di solito in salita Luciano questo ragazzo si vedeva non in difficoltà andava ma andava del suo passo un regolarista e quando scattavano gli altri poi lui gli ritornava sotto con il suo passo oggi invece è stato brillante perché li ha messi tutti a suo quadro qui vediamo li ha messi tutti in fila e effettivamente hanno fatto una natura molto violenta prima è partito George Bennett che io pensavo anche lì prima c'era una situazione una fuga con Mark Soler davanti sempre UAE ipotizzando un qualche cosa qualche attacco nel finale e poi invece sono stati ripresi dopo il partito George Bennett altro corridore interessantissimo la UAE sta in questo momento mi sembra sia 21 vittorie quest'anno sta percorrendo quella strada che voleva lo Sheikho lo Sheikho aveva detto ok va bene mi sta bene questo giochino però io voglio diventare la squadra più forte del mondo e ci sta riuscendo qua addirittura Nairo Quintana stringe un po' verso le transenne Almeida si arrivava sullo sterrato infatti c'è stato un bellissimo rallent che ci faceva vedere anche lo scivolamento della ruota posteriore bella volata a tre ma Almeida mi ha impressionato un altro che è andato forte è questo quarto qui che è Pols devo dire che è stata una bella tappa una tappa che sinceramente lo devo dire mi aspettavo molto di più da Giulio Ciccone l'avevo anche detto in telecronaca e poi dopo mi hanno preso in giro come sto facendo con Luciano stasera io perché mi hanno detto ma Ciccone ma Ciccone Ciccone non lo so Ciccone tutte le volte era quinto in classifica stamattina e mi aspettavo una conferma di quel quinto posto perlomeno era lì io ho detto che Aiuso aveva deluso però in classifica è lì nelle prime cinque posizioni io Aiuso ho detto mi ha deluso perché pensavo che fosse lui a attaccare visto quello che aveva fatto ieri non l'ha fatto ma questo è un altro bel corridore insomma se si parla di 19 anni insomma è un ragazzo veramente dal futuro Roseo 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 Riccardo oggi possiamo tranquillamente dire che era la prima salita della stagione sopra i 2000 metri la prova di Giulio ti preoccupa parecchio a 40-50 giorni del Giro d'Italia o c'è ancora tempo per migliorare questa condizione? Io con Giulio mi piacerebbe parlarci non ci ho parlato vorrei sapere magari domani parlerò ho un'intervista con Luca Quercilena qui il direttore magari ha più argomenti di me su proprio legati a Giulio Ciccone perché lui con Luca Quercilena ci ha parlato ora di recente sono preoccupato perché non mi dà segnali cioè non mi sembra che vada mi sembra che abbia dei problemi poi probabilmente magari siccome di problemi oggi siamo abituati a parlarne costantemente perché io oggi ho citato anche Totò non voglio paragonare le vacche ai corridori però quando si parla di Moria è una roba devastante c'è tanti anche qua 19 corridori ritirati alla Pariginizza 40 corridori che lottano continuamente con questi problemi di virus influenzali e nessuno può dare una una risposta a questo allora noi abbiamo fatto corridori di marzo avevamo un po' tutti un po' di bronchitelle un po' di influenzette si beccavano anche noi però così ragazzi è impressionante è vero che i protocolli interni delle squadre sono molto rigide molto di più rispetto ai nostri tempi oggi se un corridore ha mezza cosa lo fermano e lo mettono a riposo però è preoccupante quindi non so cosa possa avere Giulio però oggi bisogna dire le cose come stanno non è andato su una salita del genere non sei con questi tre non sei con gli altri due ma insomma nei dieci ci devi essere se vogliamo parlare ancora di Giulio Ciccone come probabile protagonista al Giro Italia questo è preoccupante per me Palmino te sei preoccupato? ma c'è ancora tempo per recuperare certo non va lui già prima di partire ha detto che non sova bene che non andava se l'hanno andato proprio con chi l'ha accompagnato all'aeroporto di Roma dicendo che non andava che non si senteva bene che dopo la Tirreno non l'aveva recuperata che andavamo ancora più piano rispetto di come andava la Tirreno Adriatico quindi insomma gli atleti questi momenti li hanno cioè il tempo c'è per recuperare però Palmino fino ad oggi sia la Tirreno che la Valenziana non era brillato però era lì nei dieci diciamo oggi su una salita così che gli si addiceva veramente tanto non sta bene perché esatto anche con questo Covid che ancora gira però magari uno se l'addossa e non lo sa sono tanti fattori tempo per recuperare ce n'è per entrare in forma del resto anche quell'anno che ha vinto la maglia azzurra al giro ha vinto il tappo la tappa al giro Mortirolo Mortirolo si e lui 15 giorni prima del giro di Italia non andava a calci in culo come si dice il gergo è venuto a trovare Francesco e Andrea e gli sono stati un po' di ieri Francesco gli ha fatti dei test gli ha cambiato un po' di qualche cosa nella preparazione due giorni prima di partire per Bologna gli ha fatto un test su World Brockhouse Passalangiano ha fatto dall'inizio poi l'ha ripetuto dopo 10 km e con i dati che aveva Francesco ha detto guarda che alla crono scalata se fai solo la crono scalata in salita sei tra i primi tre poi infatti ha fatto il miglior tempo quindi lui qualche giorno prima del giro non andava era sfiduciato e io gli chiesi gli dissi ma com'è dice non va dice perché ho fatto il ritiro con la squadra non vado ma tanto era piccolo e si è andato troppo e lui mi disse no veramente secondo me poco ho detto guarda magari è la tua fortuna perché per quell'anno le prime sette tappe erano piatte ho detto magari trovi la condizione i primi sette giorni poi gli ultimi dieci vai forte e poi il caso è andato così quindi insomma tempo per recuperare c'è l'importante è che lui abbia la voglia e la convinzione di fare bene assolutamente noi ce l'auguriamo direttore in 20 secondi perché siamo quasi in chiusura te che hai avuto la possibilità anche di parlarci ci dai un po' con Guercileno ovviamente ci dai un po' la situazione di Giulio e poi ci dici come oggi erano attesi i dati di Sonny Colbrelli dopo il dopo il manore della prima tappa della volta a Catalogna come sta Colbrelli ovviamente per due questioni diverse una di salute una di condizione sia chiaro allora sulla questione di Giulio Luca mi è parso non preoccupato ci siamo visti siamo andati a mangiare un boccone assieme dopo la partenza della Milano Torino mercoledì scorso e anzi era la sua frase ha detto alla terra è andato più forte di quanto noi pensassimo perché quest'anno l'abbiamo fatto partire molto più lentamente quindi erano coscienti del fatto che Giulio non fosse già al top e quindi bisogna come dice Palmiro bisogna non avere fretta farlo crescere gradualmente c'è ancora tempo è certo che Giulio un po' come Moritz per modi diversi anche lui della centralina non si deve intasare di troppe informazioni e di troppe tossine negative perché temo che Giulio magari non è un motore super ma un gran bel motore e lui spesso lo ingolfa con cattivi pensieri quindi mi auguro fortemente che come accade a moltissimi sportivi deve avere deve incontrare una giornata buona per poter acquistare sicurezza e quindi poi partire tra 50 giorni per il Giro d'Italia con quella mentalità giusta e con la preparazione necessaria per poter essere protagonista in una gara di tre settimane e io credo che Giulio abbia tutte le caratteristiche per farlo e lasciatevi dire debba farlo perché quest'anno arriva a disco noi parlavamo verrà Almeida dei primi venti del ranking mondiale al Giro d'Italia probabilmente verrà il numero 5 e probabilmente il numero 13 il numero 5 è Joao Almeida e il numero 13 e Richard Carpaz forse quindi non è che abbiamo qua il migliore corridore del mondo bisogna mettersi lì e lavorare bene sul fronte invece Joao di Trueta ospedale Joao di Girona guarda stamattina mi sono messaggiato proprio con sommi morale discreto se fosse per lui sarebbe già in bicicletta è chiaro che non è un ragazzo stupido tutt'altro è un ragazzo intelligente e sensibile ed è chiaro che sta prendendo coscienza di una situazione molto delicata e complessa è capitato in un ospedale molto molto ben attrezzato quello che ho capito io oggi ha svolto ulteriori accertamenti ma è presto per dire l'esito perché si conoscerà tra qualche giorno tra qualche giorno 10-15 giorni sapremo anche gli esami genetici come sono andati e di sicuro ha sofferto di un'aritmia elettrica bisogna capire come spiegava il primario dell'ospedale di Girona Ramon Brugada se è congenita se è una questione ereditaria se è da eccesso di stress sportivo sono tutte cose valutazioni che vanno ancora studiate ho parlato più volte con il dottor Daniele Zaccaria responsabile sanitario del team Bahrain il quale mi ha detto che un passaggio importante oggi massimo domani dovrebbe arrivare anche la scatola nera del defibrillatore il defibrillatore sembra che sia stato usato da questo angelo custode come Riccardo ne ha uno anche Sonny adesso ne ha un altro il suo nome è Boria Saitz Decos che è quello che gli ha salvato sostanzialmente la vita ha usato il defibrillatore però bisogna vedere se a tutti gli effetti l'ha usato ci vuole la controprova c'è una scatola nera c'è deve arrivare il tracciato e quindi il dottor Zaccaria mi ha detto io fin quando non ho visto se ho studiato il tracciato del defibrillatore non posso esprimere niente certo di fronte a un tracciato che ti dice c'è stato a tutti gli effetti un arresto cardiaco e il defibrillatore ha riportato in vita Sonny Colbrelli diciamo che da quello che io ho percepito da quel momento lì in poi la situazione si complica nel momento in cui ci sarà la controprova cioè la prova del nove non ci sono dubbi il defibrillatore ha fatto il suo dovere la situazione sportiva di Sonny Colbrelli diventa un pochino più complicata perché siamo in Italia perché le leggi sull'idoneità sportiva sono un po' come quello che è successo a Christian Eriksen agli europei esattamente così io sono in chiusura peraltro a proposito di prima all'inizio della puntata abbiamo detto sfidiamola nazionale chi ci ha visto speriamo siate stati in tanti ha fatto bene perché l'Italia è di nuovo fuori dai mondiali è perso 1-0 contro la Macedonia del nord quindi Luciano domani non lo so la prima pagina della gazzetta ci hanno anche scritto quale sarà temo di immaginare quale potrebbe essere l'apertura comunque è stata una bella serata ho chiuso anche quasi in tempo grazie Luciano a giovedì prossimo buonasera a tutti e buonasera al direttore di Tutto Bici Piero Augusto Stagli soprattutto grazie a te Luciano per l'invito grazie a Palmino che mi ha fatto piacere rincontrare dopo tanto tempo l'amico Riccardo è un fratello aggiunto grazie anche a te Jacopo per la tua capacità di gestire questa armata Branca Leone grazie grazie direttore grazie per essere stato con noi ovviamente buon lavoro grazie a Palmino Maciarelli grazie Palmino buonasera a tutti ciao direttore ciao Riccardo grazie anche a Riccardo Riccardo ti volevamo far vedere il palinsesto di Discovery di Eurosport volevamo farti una sviolinata così diventavi meno nero della maglia che hai ecco qua Lancia il palinsesto ci sono mille pubblicità però tra un po' ecco qua piattaforme tour donne documentari quiz veramente la casa del ciclismo buon lavoro buon lavoro a te buon lavoro anche ovviamente a tutta la grande squadra di Discovery ciao Riccardo ci vediamo giovedì prossimo ciao grazie stasera siamo andati veramente molto forte a differenza di quelli che suonano di piano sulla cipressa ciao ciao grazie a tutti grazie a Maurizio da qui in regia grazie a tutti che ci avete seguito ci vediamo giovedì prossimo alle 21 su TV6 canale 14 che tra poco potrebbe cambiare numerazione però intanto giovedì prossimo sarà ancora 14 e digitale del resto buonanotte giovedì prossimo giovedì prossimo giovedì prossimo ciao